Sono oltre 300 e i bambini sono in 122, di un'età compresa tra i 4 e i 10 anni. La nave finisce della Marina Militare e giunta al molo San Cataldo del porto mercantile di Taranto per lo sbarco di 325 profughi salvati nell'operazione Mare Nostrum. 133 uomini, 70 donne e oltre 100 vinori appunto. Immigranti provengono dalla Palestina, dalla Siria e dalla Libia. Nell'area antistante il porto è stato allestito un presidio medico. i migranti saranno collocati in varie strutture della città.